Un gigante di 250 appartamenti, quasi tutti sono seconde case, una cinquantina, quelli abitati più diverse attività commerciali. Il complesso che si trova a Montesilvano ieri è stato interessato da un'ordinanza firmata dalla sindaco De Martinis in cui viene richiesto lo sgombero immediato dell'edificio per motivi di sicurezza. Una decisione necessaria, visto l'ultima relazione tecnica firmata da un professore universitario in cui si legge della possibilità di un improvviso crollo dell'edificio. I residenti naturalmente sono rimasti basiti e soprattutto disorientati. Sentiamo Gino e Giacomo. Io non so dove andare, io non sono un tipo problematico e non mi interessano i problemi perché già ce ne ho avuti tanti e tutti abbiamo i nostri problemi. Però io chiedo umilmente al nostro sindaco e a chi è di dovere di mettersi la mano al cuore, anzi tutte e due le mani e di aiutarci a trovare perlomeno dove andare perché qui ci sono delle famiglie che veramente non hanno i soldi neanche per fare il trasloco. Questo non è uno sgombero solo tecnicamente difficile ma è anche uno sgombero socialmente difficile perché noi qui nello stabile c'è gente che ci sono anziani, disabili e c'è anche gente che sta correndo di cittadinanza. Quindi trovare una casa in affitto non è un fatto prettamente automatico. Quindi sarebbe davvero utile che il comune si facesse carico anche di queste realtà che sono presenti nello stabile. E allora sentiamo che cosa ha detto il sindaco rispetto a questa richiesta di aiuto. Abbiamo già investito di eventuali problematiche di carattere sociale ed economico l'azienda speciale per il sociale perché qualora ci fossero delle situazioni di comprovata esigenza economica e sociale insomma ci faremo carico anche di eventuali pernotti in strutture alberghiere. Lei cosa si augura? Io mi auguro sicuramente che le famiglie possano rientrare quanto presto quanto prima nelle proprie abitazioni e così come le attività commerciali già devastate dal Covid possano ripartire con le proprie attività soprattutto in una stagione estiva che ci auguriamo possa essere Florida da un punto di vista economico e l'augurio è ovviamente quello che si possa mettere in sicurezza lo stabile e quindi che lo stabile possa mantenere lo stato di cose che attualmente e fino ad oggi lo ha visto esistere. Grazie 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 Grazie